In questo terzo anno di lavoro è stata ampliata l'indagine alla Regione Toscana, che cosa è emerso? Dunque, è stato un lavoro molto interessante perché effettivamente anche per noi ha voluto dire porre l'attenzione su alcuni aspetti sui quali effettivamente potevamo soffermarci durante la nostra programmazione, ma sui quali effettivamente non avevamo fatto un confronto anche con le altre regioni. Quindi poter entrare in una dinamica di raffronto nazionale anche sui flussi correnti e quindi non solo nell'ambito del registro malattierare è un arricchimento anche per noi dell'analisi. Quello che abbiamo potuto vedere è che di fatto in comune con tutte le altre regioni la spesa maggiormente dedicata ai malati rari è quella nell'ambito dell'assistenza farmaceutica e nell'ambito dei ricoveri ospedalieri e questo è sicuramente un trend che ci accomuna gli altri. Abbiamo però anche di fatto una piccola differenza rispetto agli altri, non di poco conto però. Perché? Perché nel 2009 come Regione Toscana noi abbiamo anticipato buona parte dei nuovi LEA e quindi la maggior parte dei nuovi codici di esenzione per noi erano entrati dentro i LEA aggiuntivi regionali. Questo ci ha permesso in qualche maniera di non subire sotto un certo punto di vista un incremento repentino dell'assistenza dovuta al nuovo riconoscimento di nuove esenzioni nel 2017 a sei mesi dall'approvazione del DPCM su nuovi LEA e anzi ci ha permesso di partire con più gradualità e anche di capire come è meglio accordare i percorsi per queste nuove patologie rare. Questo sicuramente è stato un vantaggio per i pazienti e un vantaggio per la programmazione regionale. Ci ha permesso anche di testare nuovi sistemi anche per la certificazione e la predisposizione del piano terapeutico online. Il nostro piano terapeutico si interfaccia anche con il magazzino regionale per i farmaci, con il nostro magazzino Ester. Quindi i nostri professionisti in tempo reale sanno se il farmaco che stanno prescrivendo è già disponibile nel magazzino o no. Quindi questo è un grosso vantaggio anche in termini non solo di programmazione per gli acquisti ma anche soprattutto per il percorso del paziente perché il paziente viene avvisato nel momento stesso della redazione del piano terapeutico. Quindi effettivamente l'avvio dei nuovi LEA ci ha visto già in parte preparati alla nuova ondata dei nuovi codici di esenzione. Da quell'altra ci ha reso un pochino impreparati invece al fatto che alcuni codici di esenzione erano cambiati. Quindi noi abbiamo dovuto rimappare tutta l'anagrafia sanitaria ma questo in effetti poi è stato anche per noi l'occasione per ritarare tutti i sistemi dei nostri database regionali anche sul nuovo DPCM ma soprattutto anche sui nuovi, sui nuovi sistemi per monitorare anche tutti gli altri flussi correnti. Quindi ben vengano le criticità perché ci aiutano a migliorare il sistema, ci aiutano a migliorare l'analisi dei dati e ci aiutano quindi a monitorare e a programmare meglio i percorsi.